Il mondo in cui viviamo si trova in fase di trasformazione epocale, la cultura contemporanea è connotata da uno stile di vita che fa meno della trascendenza. Sono queste le parole iniziali del messaggio del Vescovo Trasarti alla città di Fano, in occasione della festa patronale di San Paterniano. Le nostre città, piccole o grandi che siano, oggi sono sempre più pervase da un diffuso senso di frustrazione, di fatalismo e di pessimismo, soprattutto nei confronti delle istituzioni pubbliche. Spetta a noi, aggiunge, il compito di contribuire anche con il nostro stile di vita, fatto di coraggio e di determinazione, a un'inversione di rotta nei confronti di un modo di pensare che investe la vita di gran parte della nostra gente e che è quasi sempre la più vulnerabile ed in difesa e rassegnata. Poi il messaggio del Vescovo, della Diocesi, di Fano, Fossombrone, Caglie e Pergola si sposta a tutti i fedeli. Essere cristiani non significa fuggire dal mondo, ma contribuire a riplasmarlo con la forza. Io sono una missione su questa terra, afferma, missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare. Rifare il tessuto sociale è possibile recuperando un valore etico e spesso dimenticato, quello della fraternità. In conclusione, Trasarti si è soffermato sul Vangelo. Oggi, dice, non mancano minacce interne ed esterne. Si assiste a un offuscamento del messaggio cristiano anche per colpa dei suoi derenti, di persone che hanno abusato del messaggio a proprio vantaggio. Ma pur analizzando i lati negativi della storia della missione, dovremo mettere adeguatamente in luce il dato di fatto che la missione cristiana ha operato una gran quantità di bene. È necessario però un risveglio missionario nei paesi di tradizione cristiana.